Presentiamo il nostro telo copriauto protettivo rinforzato a triplo strato, la soluzione definitiva per proteggere la vostra auto da graffi, pioggia, neve, urti e qualsiasi condizione atmosferica. Universale per tutte le auto, questo telo offre una protezione completa. Ordina oggi con il 50% di sconto e pagamento alla consegna gratuito.